Ecole Université Internationale. Dottoressa Magri, il vostro istituto si occupa di formazione, sicurezza e difesa. Quali sono i corsi più importanti? Ecole Université Internationale, appunto come istituto di alta specializzazione, si occupa di materie particolari come la negoziazione ostaggi e l'antiterrorismo che rientrano in quelle macro aree della pace e della sicurezza. Quali sono le persone interessate ai vostri corsi? Chi partecipa alla vostra formazione? Normalmente la nostra platea è composta da personale civile e militare, quindi forze dell'ordine, polizia e esercito, nonché studenti universitari o personale civile che si occupa di pace e di cooperazione internazionale e anche personale legato poi all'ambito della sanità e dei supporti sanitari. Dal punto di vista, dal vostro osservatorio privilegiato, rispetto a quello che si fa in Europa, l'Italia qual è il suo posizionamento? L'Italia in questo momento è in una posizione di non preparazione su alcune argomentazioni come ad esempio la negoziazione ostaggi in paragone ad altri stati dell'Europa piuttosto che ad altri stati oltreoceano. Quanto è importante la formazione in questo settore specifico, in questo momento difficile per il nostro continente e il nostro paese? Il momento storico purtroppo ci impone una preparazione, un aggiornamento costante in quello che sono le tematiche della sicurezza e della difesa, in particolare seguendo le linee guida delle Nazioni Unite e della Nato, la negoziazione degli ostaggi e tutti quegli atti che possono essere prodromici al non intervento della Forza Armata sono sicuramente privilegiati. Il vostro è un istituto che collabora strettamente con le Nazioni Unite e con le organizzazioni non governative, qual è l'istituto di riferimento per questa vostra formazione? Noi siamo parmi del PIS Operation Training Institute, cioè l'istituto demandato dalle Nazioni Unite per la formazione degli operatori civili e militari per il programma COTIPS appunto Nazioni Unite. Grazie. Grazie. Grazie.